Sbarcati a Salerno, quasi 3.000 turisti a bordo dell'imponente nave da crociera Main Shift, due enorme imbarcazione gestita da Tui Cruises, prima linea di crociera tedesca. Mentre ancora si lavora in città per accogliere i croceristi nella stazione turistica progettata da Zaha Did sul molo Manfredi, il primo cittadino rassicura sull'impegno per un futuro miglioramento dei servizi per chi arriverà in città. Sono ripresi gli sbarchi croceristici, quest'anno avranno un incremento importante, sono partiti i lavori di dragaggio nel porto, purtroppo non facciamo in tempo con questa estate portare a termine, competono l'autorità portuale naturalmente, ma sono partiti. Da qui a qualche tempo le navi da crociera come quella di questa mattina, bellissima, fatta da fincantieri e attraccato in una zona provvisoria, noi ci cauriamo che prontamente in tempi assolutamente brevi possano attraccare davanti alla stazione marittima, il che significa che Salerno ha una sua prerogativa ineguagliabile. Le navi da crociera sbarcano tecnicamente nel centro storico della città, quattro bassi a piedi e sia nel giardino della Minerva, sia nella villa comunale, al Teatro Verdi, a Piazza della Libertà, proprio veramente quando sarà operativa la stazione marittima con gli sbarchi, sono quattro bassi a piedi e questo credo che sia un nostro valore aggiunto che altri non hanno.